Grattacielo della Regione Piemonte. L'assessore al patrimonio Andrea Tronzano ha riferito in prima commissione che il rapporto costi-benefici del Palazzo Unico della Regione è positivo. Secondo i calcoli degli uffici regionali, la differenza tra i costi complessivi del nuovo edificio e i risparmi provenienti dai canoni di locazione e di gestione degli edifici in affitto, insieme ai proventi delle alienazioni degli edifici di proprietà liberati, porterebbe un utile di 113 milioni e mezzo di euro sui 20 anni, 5 milioni 670 mila se si considera il dato annuale. Secondo l'assessore il piano bonifiche nell'area della nuova costruzione, partito da uno scenario definito catastrofico, si sta attuando con ottimi risultati. I limiti degli inquinanti sono già sotto la soglia fissata dalla legge. Finora per le bonifiche sono stati spesi 16 milioni di euro, quattro in più di quanto messo a bilancio. Tra gli interventi dell'opposizione il consigliere Giorgio Bertola del Movimento 5 Stelle ha espresso qualche dubbio sui dati relativi ai costi. È stata presentata un'analisi di costi benefici che però non tiene conto di ulteriori costi che possono essere a carico della regione Piemonte legati agli oltre 170 milioni di euro di riserve presentate dalle imprese. Oggi non sappiamo come si concluderà quell'operazione e quindi ulteriori costi potrebbero incidere in modo pesante e in modo negativo sull'analisi. Nella maggioranza ha ribadito il sostegno all'assessore Tronzano. Ci si augura che la vicenda possa finalmente concludersi nel miglior modo possibile. Si tratta di un'opera che va avanti da più di 20 anni. I problematiche e sorte sono veramente tante quindi è chiaro che anche il nostro approccio deve essere assolutamente meticoloso, pragmatico e assolutamente fiscale su tutti gli aspetti dell'opera. L'assessore Tronzano ha anche confermato che l'edificio di Piazza Castello rientra ancora nel piano, anche se sulla sua vendita è in corso una riflessione. Rispondendo poi a una sollecitazione del presidente della prima commissione Carlo Riva Vercellotti, l'assessore ha comunicato che sono stati finora impegnati 64 milioni dei 65,7 messi a disposizione per il 2019 dal governo attraverso la legge di stabilità in investimenti in settori come il dissesto idrogeologico, la sanità, i trasporti, il sostegno alle imprese, la ricerca e l'innovazione. Grazie. 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 Grazie.